sono troppo forte bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale ragazzi vi faccio vedere cosa succede quando il savix è in live sui twitch video dove strapolo tutti i momenti più divertenti ragazzi vi invito a seguirmi sul canale viola lasciatemi un pollicione ragazzi non vi costa nulla e un follower è gratis e ragazzi è gratis quindi passate e vi lascio il video bella raga tanto se non mi metto mai a provare a capire come devo settare sta nuova raga non potrà mai andare mannaggia sindaco snorso nooo porco colabludo maledetto colabludo Dio che caronia l'ho toccata io eh l'ho toccata eh sono stato io su camelo su camelo su camelo che palo ho preso porco cristofer esternissimo un boost un boost un boost un boost vai vai in mezzo tu va ragazzi ho fatto il contro l'imbalzo e te l'ho fatto un altro ah vai 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 uttala dentro no è qua tira adesso ma perchè me lo fai fare a me ahahah tu avresti già fatto 15 gol lo so Filippo lo so eh devi farmi te pancatroia ma guarda qua non riesco a buttarla dentro si cazzo fa un culo mi piaciuto un 8 per il tentativo grazie l'ho toccata l'ho toccata quando ora ora guarda ah ok tac ok non me ne raccomando no me lo ricordavo quel trucchetto lì come l'avevi detto un po' di tempo fa eh no possiamo combattere appunto dico fa un culo lui tu cioè così è facile però ahahah così è facile no mi esplosa addosso la palla ahahah ma come cavolo è che dovevo prenderla per farla rimbalzare al contrario eh ma ma perché sta c'è la visuale al contrario qua se va giù va su cioè non capisco nooo ci siamo fatti fare gol ah no che dici cioè oh mi vedete ma che cazzo io sto strippando qua mappa nuova mappa nuova si si cambia lo stadio poi il resto è sempre quello questi sono player veri eh qui si l'ho visto come mi è passato vicino si vabbè gol gol ho drozza manà bubido gol bravo smart x orcocribbio eh ho impagliato pure io qua casino tutto sotto controllo tutto sotto controllo visto minchia dove cazzo la palla l'ho persa primi y nel dubbio ho preso di ago l'ho sbattuto fuori guarda si riesce a pararla gira da l'altro lato ma si tranquillo tutto sotto controllo ok eh eh si ci ho provato non avevo il turbo perca troia raga ma come cazzo bisognava essere concentrati sto gioco no è chill si si è chill io sto strippando ma è perchè c'è l'inizio vai fili vai fili bella fili parliamo di iniziale eh vabbè ma magari ci giocate da tanto ma guardate cosa mi sono mangiato eh eh no uno da un lato e uno dall'altro allora eh io mi devo girare una siga eh eh se guardi la live capisci ci siamo cambiamo ma oh oh che bella che bella è ma hai fatta benissimo che figata allora garage voglio cambiare anch'io macchina così sì allora eh se mi prendo la leva avanti oh che cazzo è successo e mi prendo due volte a veloce ah ho capito boom boom fa il salto veloce e devo prendere la palla al contrario io giusto quindi devo farlo all'indietro e e facendo sta roba qua la palla schizza in alto o no? allora vabbè hai il strippino avanti vabbè ci diverte sì mi diverto cioè voglia di giocare di brutto comunque allora flip in avanti col doppio tasso ho capito come si fa la faccio così in poco tempo provo a giocare così sì per te mi devo andare io a pallone vai buttamela in mezzo porco disco ma perché non mi sono rimasto lì porco oh grazie tanto io vedo gente che qua su Twitch messina come pazzi oh oh e questo è mio questo è mio questo è mio questo è mio il gol fornala stupido e non lo so volevo prendere la palla oh porca troppo mi dimentico che devo schiacciare e Fili sono in mezzo gol sono troppo forte ahahah tu non hai capito torco tuo io su questo gioco divento un deficiente allora dove cazzo è la palla con Y quando si 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 infatti quello lo fa facendo e poi aiuto aiuto giro troppo praticamente sempre giocare con quello visuale sulla palla si esatto poche volte poche volte quando devi andare a prendere il turbo quando ti devi girare devi vederlo intorno dove cazzo è ha perso di nuovo quella lì vai 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 in mezzo eh hai sbagliato il tocco se la piavo tu ninchia non c'ho abbastanza turbo devo prendere il vizio di caricare sto cazzo di turbo o non usarlo o non usarlo tu eh ha iniziato a giocare da 13 secondi cazzo si si madonna mia ragazzi ma cos'è sto gioco quando fai il gol c'è l'inebrianza oh no lì mi ha spinto il culo oh 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 su vada ma che figo porca puttana me l'ha tolto da davanti il pallone sto infame sto carogna dei merda beh non serve guarda che cazzo di gol hai fatto ah no palo vabbè palo nooo porca troia girati cazzo oh butta dentro sta palla porco quel palordo ok ok capo fatto lui fatto e io oddio butta dentro sta palla mamma mia questo è il mio assist 50 points eh mica scherziamo eh basta aspettare quel metodo